Sono già arrivate a Fort Lauderdale, nella costa sudorientale della Florida, la maestra di karate Maria Rossica e la giovane atleta Sara Bunone. Con la vista sull'oceano atlantico, tra spiagge e canali, non molto lontane da Miami, le due nissene sono già pronte, dopo una lunga preparazione curata anche dal maestro Michele Nicosia, per partecipare ad un evento al quale prenderanno parte atleti provenienti da diversi paesi. I campionati mondiali di karate, giunti alla decima edizione della World Union of Karate 2 Federations, che si svolgeranno nella città americana dal 2 al 7 luglio. Mi trovo alla mia prima esperienza mondiale fuori dall'Europa, spero vada bene, sono pronta, dopo una lunga preparazione curata dal mio maestro Michele Nicosia, e a questo evento portiamo la nostra giovane atleta Sara Bunone, 16 anni, e farà la sua prima esperienza a livello mondiale. Una sfida dunque che permetterà all'atleta Sara Bunone, da anni appassionata di karate, di arricchire ancora di più il proprio bagaglio di esperienze nel mondo delle competizioni sportive. Mi presenterò per le specialità del kata e del kumide e mi auguro che vada tutto bene e ce la metterò tutta.